Musica Bello a tutti ragazzi, sono da Mirko e bentornati su Ghibli Channel e su Internet Caffè e Supermarket Simulator Guardate qua la roba che mi sta scaricando Il muletto aiuto ci metteranno 6 anni e mezzo a risistemare tutto Perché vedete siamo al giorno 38 Allora cos'è successo? Io avevo il gioco aperto, stavo giocando off camera per pagare il conto che avevamo Vi ricordate di 4000, no 7000 qualcosa addirittura Quindi ho aperto il gioco e stavo giocando off camera Poi cos'è successo? Mi è arrivata gente a casa, abbiamo dovuto parlare perché sono stato via un'ora Dimenticandomi completamente che il gioco era aperto Sono arrivato ad avere come soldi praticamente più di 20.000 dollari Però con un conto da pagare di 14.000 e passa E parecchie cose ovviamente che mancavano nel supermercato Però molte meno rispetto a quelle che pensavo sinceramente Quindi niente, ho pagato il conto ovviamente Ho sistemato tutto e ho dovuto ordinare però tutta la roba che mi mancava Quindi adesso gli diamo una mano ai nostri tizi qua Perché se no ci impiegano veramente otto decenni a mettere a posto tutto Servirebbe un altro magazziniere? Sì, ne servirebbero altri 12 con un ordine del genere Ma quest'ordine è andato così per questa motivazione Se no di solito comunque ovviamente non ordino così tanta roba Di conseguenza per adesso ne tengo due anche perché come detto sono già abbastanza alte Le spese che devo affrontare tutti i giorni Quindi magari evito per il momento di avere altri magazzinieri Comunque devo dire che stiamo andando bene Siamo a livello 18 del punto internet Purtroppo ancora non riesco a prendere gli arcade Tra l'altro adesso vi faccio vedere perché il gioco si è aggiornato tantissimo Questi sviluppatori qua sono veramente dei miti Perché hanno aggiunto la possibilità di comprare casa Quindi hanno messo appunto una casa mi sembra in acquisto Che costa però uno sboato Quindi di sicuro non potrò comprare questo oggi Però in ogni caso hanno messo una casa Hanno messo dei nuovi arcade Hanno messo veramente una marea di robe Infatti vedete acquisto casa Abbiamo questa che costa un fottio Perché costa veramente una marea e una villa di lusso E poi in più abbiamo anche tutti gli aggiornamenti Quindi tutte le decorazioni per la casa Poi nella parte di arcade hanno messo una marea di giochi nuovi Come vedete sono veramente una figata assurda La cosa brutta purtroppo è che appunto si sbloccano a livello 30 del punto internet E io sinceramente faccio fatica ad aumentare il punto internet Siamo solo a livello 18 quindi poco più di metà rispetto a quello che dovremmo essere Non so se c'è un metodo per far salire più velocemente Diciamo così il punto internet stesso Oltre ovviamente a creare nuove postazioni Che adesso andremo a fare Però se magari c'è modo di farlo aumentare più velocemente Voi lo sapete fatemelo sapere ragazzi Perché mi piacerebbe veramente fare tutta una zona sala giochi Quindi una zona con tutti i vari arcade E quindi in grandiere negozio ovviamente Per cui fare proprio cose separate Una zona dedicata solo all'internet point Una agli arcade e una ovviamente al supermercato Però come detto è un po' un casino ragazzi Un po' un casino Allora io metterei subito una nuova postazione internet Per intanto perché abbiamo bisogno per l'appunto Di aumentare assolutamente il nostro punto internet Quindi prendiamo tutta la roba migliore Che possiamo ovviamente mettere adesso E ci costa 6.259 Una postazione intera Rimaniamo con 142 Abbiamo un conto nuovamente di 2.500 Passa però comunque questa postazione Ho già lo spazio pronto Ci farà guadagnare sicuramente dei soldi in più Quindi insomma tanto di guadagnato Per cui vale la pena spendere questi soldi Anche perché come sappiamo purtroppo Costano questa cifra Quindi non è che possiamo Non è che possiamo fare diversamente E per fortuna che adesso sto utilizzando La postazione che ancora non è al massimo Perché poi le postazioni più alte Costano ovviamente ancora di più Però noi intanto iniziamo a mettere questa Così almeno l'attiviamo subito E iniziamo a guadagnare anche da questa E siamo a posto C'è la fortuna che comunque ho visto Come detto rispetto a un supermarket simulator Qua il supermercato diciamo vende meno E quindi in realtà facendo un po' di scorta Io come detto ho passato più di un'ora A chiacchierare appunto Queste persone mi sono venute a casa Che non erano previste E pensavo di avere il supermercato Completamente completamente vuoto Invece a parte un paio di articoli Tutto il resto c'era Era tutto strapieno Quindi bene così Nel senso che comunque Possiamo anche lasciare il gioco aperto Cioè posso lasciare il gioco aperto Quanto meno è andare avanti Per l'appunto a guadagnare soldi In maniera abbastanza facile e veloce Allora qua metto questo Però devo subito aumentare assolutamente La cifra che non mi fa aumentare Ovviamente perché sarà già attiva Maledetto lui Mi ha già fregato la postazione Qua niente l'unica è chiudere Chiudere il punto internet E riaprirlo Quindi facciamo così Lo chiudo un attimo Perché se no non riesco ad alzare i prezzi Ragazzi questi come attivo una postazione Me li fregano Me la fregano subito Maledetti luridi Quindi devo per forza di cose far così Questo devo aspettare Addirittura 170 minuti Vabbè allora intanto lo apro Facciamo così Lo apro perché tanto lui appena finisce I 100 e passa minuti Chiude il negozio Almeno nessun altro me la utilizza E la alzo Poi magari riesco anche ad alzarla al volo Senza chiudere tutto il negozio Vediamo un attimo Vediamo un attimo Perché allora il supermercato mi ha aumentato molto Adesso siamo a livello 44 per l'appunto Quindi per quello aumenta bene E il problema è il punto internet Che non so come altro aumentare Perché il punto internet A parte le postazioni Io che gli posso mettere Cioè nel senso Non è che ho altre cose Da mettere Sinceramente Quindi Non lo so Non lo so Adesso vediamo un attimo ragazzi Vediamo un attimo Come fare Questa postazione Vabbè comunque ci frutta sempre Quasi 40 dollari all'ora Quindi non è male Adesso ovviamente la portiamo anche questa 51 e 65 Così è ancora meglio Ovviamente E poi direi che Siamo a posto Come supermercato al momento Non mi pare Abbiamo aggiunto Nuovi prodotti Anzi forse sì Gelati Perché hanno aggiunto anche nuovi freezer Nuovi scaffali Adesso poi ve li faccio vedere Fatemi alzare un attimo Qua il prezzo Perché quando fanno l'aggiornamento Ragazzi Se sviluppatori aggiungono veramente Una marea di roba E quindi magari Qualche cosa me la scordo Abbiate pazienza Se mi sono scordato di Dire qualcosa Su questo aggiornamento Ma come detto Aggiungono veramente Un sacco di roba E quindi fanno Un lavoro Un lavoro assolutamente Fantastico E però come detto Magari qualcosa Me la scordo Non troppo costoso Ok facciamo 51 e 66 Perfetto così L'ho aumentato Senza richiudere Poi Memorandum Cos'è che Ah no Ok sono le note Va bene Allora dicevo Hanno aggiunto un sacco di roba A livello di Scaffali Ve li faccio vedere Scaffali hanno messo Questi qua bianchi Che non mi sembra Ci fossero prima E hanno messo I frigo Questi qua di gelati Che adesso compriamo Perché voglio assolutamente Prendere Un frigo blu Ok Così compriamo anche i gelati Hanno messo Questo ampio stand Espositivo per frutto e verdura Spettacolare Veramente Veramente figo E anche tutti questi qua Quelli larghi Per le bevande Per tutte queste cose qua Quindi anche questi molto bellini Con il simbolo insomma della bibita Ci sta assolutamente Quindi iniziamo a comprare questo E mi vado a comprare qua Tutta la parte Dei gelati Che mi pare Ce ne siano solo due Di gelati Se non ricordo male Adesso poi Verifichiamo Intanto vediamo se mi manca qualcosa Sì Cioè tutte le cose a uno Io le compro Così almeno Ho un po' più di scorta E sto tranquillo Che Diciamo non mi finiscono Ok Questo abbiamo tutto Sì Fino a qua abbiamo tutto Due Due va bene Questo direi che va bene Pasticceria Qua ne prendiamo un'altra Ok Questa roba Ah ho la pizza Cacchio vero Le pizze non ho preso Che scemo Le pizze le avevo finite Eh sì Ecco cosa che mi mancava Va bene L'abbiamo presa adesso Comunque non è un problema Formaggio anche È vero Io avevo anche il formaggio Porca miseria Ecco C'era qualcosa Che mi ero scordato Di prendere Inizio ad avere tanta roba Diventa difficile Ricordarsela tutta Poi anche le patatine Queste qua le potrei prendere E mettere insieme Alle altre che ci sono Quindi prendiamo anche Due cose di patatine Eh Va benissimo Di questi va bene Di questo va bene La salsa di pomodoro Non ce l'avevo Il caffè neanche Per adesso Ecco vedete che abbiamo Il cono a gelato Al pistacchio E quello alla fragola Ma ci sono solo Questi due come gelati Poi questi ci sono Tutti burrito Musacca e lasagna Ma direi per adesso Di non prenderli Eh compriamo tutta sta roba Eh come ho detto Il conto per adesso Chi se ne frega Tanto visto che comunque Lasciando aperto il negozio Guadagniamo veramente tanto Quindi Eh Diciamo che lo faccio Poi direttamente Lascio aperto Magari una mezz'oretta Off camera E E rimetto tutto a posto Sì infatti qua Mi mancavano un po' di pizze Vedi non Non me ne ero accorto Meglio L'avevo prima ma Eh poi Giustamente L'abbiamo finite E quindi Nada Forza coraggio Magazzinieri Che qua dobbiamo mettervi a tutto Va che bordello Che c'è sto magazzino Mi fa venire Il mal di testa Ogni volta che lo vedo Sto magazzino Ragazzi È veramente un casino È veramente un casino Un casino mostruoso Però d'altronde loro Mi metto la roba per terra Inutile che io La sto a mettere Ordinata sugli scaffali Tanto poi loro Me la buttano tutta per terra Quindi non Non c'ha veramente senso Eh Allora Mettiamo sta roba Quindi abbiamo i gelati Perfetto Questi li butto in magazzino Poi li sistemiamo Non appena trovo Fra tutte ste scatole Il frigo Ecco L'unica cosa Dovrebbero diversificare Le scatole Degli alimenti Da quelle Dell'arredamento Frigo Scaffali eccetera Piuttosto che computer E quant'altro Cioè dovrebbero mettere Un'immagine sulla scatola Perché quando ordinate Tanta roba Come in questo caso Io qua in mezzo C'ho anche il frigo Ma vai tu a capire Quale cacchio è il frigo Perché poi le scatole Sono tutte grandi uguali E quindi è impossibile Capirlo Sinceramente Per cui ecco Questa sì E' una cosa che effettivamente Farebbe comodo Avere una diversificazione Nelle scatole O magari semplicemente Un'icona Se vogliono lasciarla così Ma giusto mettere Un'icona sulla scatola Con l'immagine Di ciò che contiene La scatola Almeno se uno ordina Insieme attrezzatura E cibarie Diciamo così Sa raccapezzarsi un attimo E sa capire Magari cosa prendere prima Piuttosto che dopo Ecco Questa effettivamente Sarebbe una cosa Molto molto comoda Ad avere Quindi lo dico Insomma se gli sviluppatori Ah no Questo ok E' un po' più grande No invece ho detto Una cazzata Perché Allora queste qua Sono più grandi Quindi almeno Questa del frigo Effettivamente Era un po' più grande Quindi ok Allora io il frigo Quasi quasi Lo metterei qua Perché solitamente Il frigo con i gelati Le cose E scream Bellissimo Sono In posti Magari vicino alle casse Quindi secondo me Quindi secondo me ci sta Secondo me ci sta Allora gelato Assolutamente sì Addirittura Quindi lo vendiamo a 20 Questo gelato qua E l'altro gelato Questo qua Direi che lo possiamo vendere A 18 E 50 Io lo metterei Sinceramente Sì Vendiamo la 18 E 50 Quell'altro libero Mettiamo anche questo Dai così almeno Riempiamo di gelati Direttamente Il nostro Cosa di ice cream Poi visto che Noi ho solo due tipi Di gelati Potrei prenderne un altro Di frigo E metterne Un tipo qua E un tipo nell'altro Così riempiamo un frigo Di un tipo solo di gelato E l'altro frigo Con quell'altro Dovrebbero aver velocizzato Anche i pulitori Da quanto visto Dall'aggiornamento Non mi sembra però Che siano più veloci Forse hanno velocizzato La reazione Rispetto a quando I clienti sporcano Cioè che il pulitore Si muove subito Non appena c'è sporco Prima tergiversava Un attimo Credo Credo sia così Poi Il reparto qua Patatine Praticamente Adesso volevo fare Un'altra cosa Visto che qua abbiamo Tutte patatine grandi Io qua le tiro via Qua anche Le patatine piccanti Le tiro via E qua vado Praticamente A mettere Dove stanno Le patatine nuove Che ho preso Ehm Mo' a trovarle Tortini Pasticceria Secchio di cioccolato Dovrei averle Le altre patatine In teoria Patatine triangolari Eccole qua 23,59 Addirittura le vendiamo Assolutamente A 24 Mentre invece Adesso qua Me le ha rimesse Maledetta Lurida Ho detto di togliere Il tag del prodotto Ok Mentre invece qua Gli mettiamo Quelle altre Che ho preso Che non sono Quelle triangolari Ma erano Erano Cioccolato Patatine Triangolari No c'erano le altre Però non me le hanno Ancora messe via Vuoi dire Fammi andare a vedere Un attimo Ma è impossibile Non c'è più niente La No qua non c'è Le ho prese Io sono sicuro D'aver preso anche Anche le altre patatine Ce ne erano di due tipi Allora Caramelle Tortine Pasticceria Ehm Patatine piccanti Ehm Cioccolato con copertina Patatine piccanti Quelle piccole Ehm Ah erano queste No Questo è il tortino Gusto vaniglia Ma dove cacchio è Quell'altro Scusami E le altre patatine Dov'è che sono Liquore No Ma dove cacchio è Che sono Frutta Verdura Ehm Boh No Cura personale Non credo No ma scusami E io sono sicuro Che ne ho presi Due tipi di patatine Fammi vedere un attimo Fammi vedere un attimo Perché io sono sicuro Che ne ho presi due tipi Perché ho queste E ok Ehm Poi C'erano andando giù Le altre patatine Che non mi sembrava Fossero prodotto da frigo Andiamo a vedere un attimo Ma A meno che non mi sono Rincoglionito E' cosa altamente probabile Però Non mi pare Fossero prodotti da frigo Ehm Fiocchi di latte Io li avevo messi Forse no No Mi sa di no Mi sa di no Allora ho preso Ah no Ho preso le patatine originali Vedi che ne ho due Patatine originali Si chiamano Eh vedi che non mi sono Rincoglioni Scusami Ma le mie patatine originali Qua dove cacchio E che me le hai messe Cerca prodotti Allora facciamo così Patatine Ok Ok E quelle originali Non ci sono Però scusami Patatine Originali E non ci sono Ah patatine originali Qua me le da Chissà dove cacchio è Che sono Boh Eh io non le ho viste Queste da nessuna parte Vabbè Eh le mettiamo qua Così almeno abbiamo anche Le altre patatine E siamo E siamo assolutamente A posto Ok dai Poi tutto il resto Del supermercato Direi che è bello pienotto Forse manca qualcosina Di frutta e verdura Però in linea di massima È tutto bello pienotto Qua abbiamo cartigienica Abbiamo tutto Vedete che adesso Siamo già a 3.892 Quindi a questo punto Posso anche Pagare il conto Così sono tranquillo Che Eh nessuno mi rompe le balle E direi che ci siamo Eh Allora per il prossimo episodio Ragazzi io vorrei fare L'ampliamento del negozio Sinceramente Eh Anche perché adesso abbiamo fatto L'altra postazione internet Quindi comunque ne abbiamo 6 Operative Potrei allargarmi ancora Fino a qua Secondo me Con le postazioni internet E metterne quindi ancora un paio Per cui Eh Facciamo solo quest'ultima cosa Andiamo a prenderci un attimo Le Eh Pareti divisorie Che anche qua mi sa che ne hanno aggiunte Perché erano di meno Da quanto mi ricordo io Eh Però Poi Fatemi sapare ragazzi Datemi conferma Ma mi sembra proprio di sì Eh Quindi ordiniamo Così vado a fare un'altra Eh Postazione da questo lato E un'altra da questo lato Così abbiamo già lo spazio Per poi Eh Poter mettere Effettivamente le postazioni Io vedrò magari di fare come Eh Ho fatto adesso Lasciare andare un po' il gioco off camera In modo di accumulare Un po' di soldi Che Eh Schifo Non ci fa Così almeno Fatto questo Nel prossimo episodio Possiamo vedere se riusciamo Magari già a Eh Ingrandire Per l'appunto Il Eh Il nostro negozio Così ingrandiamo Eh Il supermercato Magari iniziamo già a dividere Iniziamo già a fare lo spazio Per Eh La parte arcade Sperando come detto Che mi diate un consiglio Su come effettivamente Far aumentare prima Il livello del nostro Eh Punto internet Perché ribadisco È veramente difficile Cioè adesso siamo a livello 18 Però Eh Capite che dobbiamo arrivare A livello Eh 30 Ed è un bel casino Cioè Nonostante tutto il tempo che è passato Anche adesso Di questo gameplay Sono comunque sempre A livello 18 Quindi vedete che Aumenta veramente Poco per volta Cioè aumenta ogni cliente Che paga Non so se mi dà forse 5 Di esperienza Però Eh Capite che ce ne vogliono Così di clienti Nel punto internet Per riuscire Ad aumentare tanto Quindi è un bel casino Per cui Vediamo Vediamo poi gli arcade Non appena riusciamo a metterli Perché secondo me Quelli fanno anche guadagnare Veramente molto E Eh Sono un po' curioso Di vederli Con Insomma Gli NPC Che Che smanettano Con gli arcade Non vedo veramente l'ora Va bene ragazzi Quindi io direi Che per quest'oggi però Posso fermarmi qui Con questo nuovo episodio Mi raccomando Voi sostenete Questa serie Spolliciando Quindi lasciate un sacco Un sacco di like Adesso sto per svenire Eh Quindi vediamo Se riesco a prendermi Un caffè al volo Io mi scordo sempre Di guardare le mie statistiche Mannaggia me Mannaggia Ok Adesso ce l'ho fatta Mangiamo un po' E mangiamo ancora del caffè Perfetto Quindi dicevo ragazzi Mi raccomando Lasciate un sacco Un sacco di like Condividete Commentate Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti E tenete la campanella Le notifiche Per chi vuole dare Un contenuto concreto Al canale Come sempre Può fare attraverso Gli abbonamenti Youtube O il tasto di ragazze Di sotto Di ogni mio video Detto questo Giovinotti Io vi ringrazio Vi saluto Ci becchiamo Nei prossimi gameplay Ciao belli